Ciao, vi chiamate? Nadia, Irene, Marta E cosa fate di bello? Siamo lo staff che vi accoglie al Bed & Breakfast Centro Storico di Chiari e io in modo particolare all'accoglienza, Marta alle colazioni e Irene che mi accompagna e mi presenta la struttura Il jolly, ok Raccontateci un po' la vostra esperienza dopo aver partecipato al corso su Young Conventional Guest e quindi come conquistare gli ospiti con stili alimentari diversi Cosa vi è piaciuto di più? Cosa avete imparato? L'importanza dei prodotti del territorio sicuramente che sono da valorizzare e per quanto riguarda Young Conventional Guest che meritano un'attenzione in più che noi personalmente comincieremo a dare da oggi in poi L'importanza di conquistare, quindi di fornire prima all'ospite ciò che vuole prima ancora che lui se ne renda conto e di farli tornare perché gli lasciamo un bel ricordo Ok, grazie mille e poi vi chiedo infine a chi consigliereste questo tipo di corso e perché? Mi sicuro alle persone del settore perché è fondamentale avere questa attenzione verso i propri ospiti, ancora adesso non c'è Non ai concorrenti Sì, a tutti quelli che vogliono valorizzare il paese Italia Grazie mille per la vostra testimonianza Ciao Grazie Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te